ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti da primark ma prima di iniziare a farvi vedere gli acquisti fatti da primark vi volevo far vedere questo libro ho acquistato il libro di eric oba l'ho preso direttamente nella cartoleria del centro sicilia e non vedo l'ora di leggerlo perché mi piaceva tantissimo lei mi piace come persona vista diciamo qui su youtube e quindi l'ho voluto prendere sono molto curiosa di leggerlo e vedere cosa mi può insegnare quindi ho preso questo libro dopodiché vi faccio vedere cosa ha preso da primark allora prima di tutto ho preso questo che è un set dove abbiamo un lip balm che è questo un lip scrub che è questo barattolino qua e poi abbiamo uno scrub proprio per le labbra che è questo al prezzo di 4 euro però non è costato 4 euro perché poi il prezzo finale è stato di 3 euro cioè nello scontrino c'è scritto 3 euro vi faccio vedere proprio i prodotti esce un profumo bellissimo allora non lo apro perché ho l'altro aperto e abbiamo un lip balm che è questo poi in questo barattolino carinissimo c'è il lip scrub che è questo qui e poi abbiamo questo che è una specie di scrub che lo potete tenere così e scrubbare le labbra devo dire che mi piace come cosa infatti l'ho voluto prendere subito perché mi è piaciuta anche come idea poi ho preso due cover per il mio iphone e ho preso ovviamente questo video parla di stitch quindi ho preso una cover di stitch questa qui che ha lo sportellino per diciamo nascondere la fotocamera questo è costato anche ce n'è pure è costato 4 euro e il la cover è questa molto carina e trasparente con stitch qui devo comprare però il gancino per tenerlo mi piace perché ha questa parte così diciamo più rigida e niente mi è piaciuto e quindi l'ho preso e stitch è tutto tipo glitterato non so se si vede che tutto glitterato è molto molto bello mi è piaciuto e poi ho preso questa questa cover che ha direttamente la catenella qui per tenerlo diciamo con le mani e questo è costato un euro in più quindi è costato 5 euro qui c'è il prezzo è costato 5 euro questa invece è tutta diciamo non è come questa trasparente ovviamente ma è tutta colorata è fatto così sono molto molto carine e non vedo l'ora di metterle nel cellulare poi un'altra cosa di stitch che ho preso è questo dove c'è il dispenser ve lo faccio vedere qui ma adesso lo esco il dispenser per lo scotch per l'adesivo e la pinzatrice adesso ve lo faccio vedere al prezzo di 5 euro ve lo faccio vedere bellissimo qui abbiamo la pinzatrice cioè bella guardate qua molto molto bella proprio con tutti i disegni di stitch bello e poi abbiamo il dispenser per lo scotch vediamo se riesco a farlo uscire sì che ci riusciamo è abbastanza pesante devo dire a che ci riesce così che ci riesco eccolo qua e questo ovviamente devo inserire questo qui e questo è il dispenser per lo scotch ovviamente ha la parte stabile diciamo per metterla sul tavolo ed è veramente stupendo perché ha la stessa fantasia del quaderno e di altre cose quindi è molto molto carino per 5 euro è bellissimo poi un'altra cosa vi faccio vedere visto che ce l'ho qui sulle gambe ho preso questa felpa che oversize appunta grigio melange con stitch è fatta così è molto molto bella ovviamente oversize e la manica è così infatti ho preso la m ed è costata 16 euro 16 euro e la felpa è così tipo davanti con il jeans la potete indossare e così è dietro molto carina ho preso la m perché la l era troppo grande ce ne entravano più di una quindi non l'ho voluta prendere poi mentre ci sono vi faccio vedere anche questa che questa l'ho presa nel reparto uomo ed è questa felpa giacchettina come la volete chiamare con i bottoncini i bottoncini sono quelli touch la giacchettina è fatta così in questo grigio con questo stemma con la n così e anche le tasche i bottoncini sono bianchi e le bordature sono blu scuro e poi finisce sempre con il polsino nella parte di dietro è semplicissima così come la vedete davanti e anche questo ho preso una m e anche questa l'ho pagata 16 euro poi riguardante la scuola come vi ho fatto vedere poco fa aspettate che prendo le altre cose allora per prima cosa ho preso questo borsello zainetto come lo volete chiamare questo l'ho visto un mio amico che si chiama salvo che saluto ciao salvo l'ho visto e mi ha detto guarda questo è tuo perché c'è scritto stefania sti c'è stefania e quindi l'ho preso ci entra benissimo il cellulare e quindi sono molto contenta lo metto qua il cellulare questo l'ho pagato 8 euro ma alla fine non ho pagato 8 euro ma ho pagato se mi sbaglio 6 euro o 750 una cosa del genere è fatto così lo aprite togliamo la carta che c'è all'interno ci sono dei divisori qua dentro per inserire non so che cosa e poi c'è la tracolla mi piace tantissimo quindi quando faccio degli spostamenti veloci veloci questa è bellissima me la porterò dietro poi sempre per quanto riguarda stefania borsette e pochette ho preso questa pochette di stitch è molto molto carina è plastificata alla cerniera e all'interno è molto spaziosa vedete molto spaziosa questa l'ho pagata 6 euro 6 e la cosa che mi piace di più è il fatto che è plastificata quindi se vi cade qualcosa la potete lavare benissimo e ritorna come nuova quindi l'ho voluta prendere ovviamente poi c'è stitch quindi che fai non lo prendi ovvio che lo prendi poi un'altra cosa che ho preso è questa ed è la bottiglietta di stitch io non l'avevo la dovevo prendere assolutamente ed è proprio simile alla cover del cellulare vedete il disegno è lo stesso ed è molto molto carina mi piace tantissimo proprio questo colore come è fatta la bottiglia con tutti questi glitter all'interno che sono molto molto bello cioè mi piace mi piace perché glitter anche si muovono è molto bella questa pagata 7 euro 7 euro ed è quella con il ciuccetto quindi avete il ciuccetto qui e poi lo chiudete molto bella mi piace molto capiente quanto acqua c'entra c'è scritto quanto acqua c'entra? no non c'è scritto ah 550 ml di acqua mi piaceva quindi l'ho voluta prendere le ultime due cose che ho preso sono stati questo quaderno molto bello con gli anelli e questo l'ho pagato 5 euro vi faccio vedere i prezzi perché ogni volta me li chiedete quindi 5 euro ed è fatto quello con i divisori quindi avete anche divisori per diciamo dividere per documenti non lo so poi quello che dovete fare mi piaceva tantissimo e quindi ho preso questo set di quaderni molto belli anche questi questi al prezzo di 5 euro questo set di quaderni ve li faccio vedere ovviamente la particolarità sta che questi quaderni hanno i forellini quindi sono quelli adatti a metterli in quelli con i buchetti non mi ricordo come tipo carpette con i buchetti no il raccogliettori ad anelli quello e i foglietti sono a righe ovviamente come in tutto sono ottimi perché li potete mettere e vi rimane sempre il quaderno a me piace come idea a me piace come idea sinceramente e abbiamo questa fantasia poi abbiamo quest'altra fantasia qui e per finire questa fantasia sono molto molto belli sinceramente mi sono piaciuti e quindi l'ho voluti prendere questa fantasia assomiglia a questa fantasia vedete sono tipo uguali poi per finire vi faccio vedere il set che ho preso che è questo che è uguale a tutto il resto vedete proprio l'accoppiata vincente questo l'ho pagato 7 euro ho scritto qua 7 euro ed è una busta plastificata con lo strappo e all'interno vi dico cosa trovate appettate appettate che vi dico cosa trovate appettate non vi muovete appettate allora avete una busta plastificata riutilizzabile dopo di che cadono tutto dopo di che avete una matita di stitch ovviamente un temperino una gomma fatta così una penna molto carina fatta così poi c'è un righello proprio con la diciamo il disegno di stitch fatto così poi avete degli stickers dove avete il to do list che è questo qui e poi ci sono tutti gli adesivi che sono questi qui quindi sono dei post it poi avete un quaderno piccolino in questa maniera sempre a righe molto bello perché si vede che è buono fatto e poi avete questo quaderno con i forellini sempre la disegno mi piace tantissimo e il quaderno è sempre a righe devo dire che come diciamo idea regalo per dei ragazzini che vanno a scuola o anche per adulti perché avendo anche un età io a me sono piaciuti quindi devo dire che è un'ottima idea regalo non lo so ditemi cosa ne pensate se avete acquistato questi prodotti se vi piacciono o non vi piacciono e se vi piacciono i miei video per quanto riguarda stitch perché sapete tutti che io sono appassionata di questo personaggio e quindi qualsiasi cosa la compro mi piacevano tantissimo cioè io quando li ho visti poi ad esempio anche amici adesso quando vedono stitch mi mando nelle foto e guarda cosa ho visto guarda cosa ho visto quindi vi lascio immaginare come sono comunque ditemi cosa ne pensate di questo video se vi è piaciuto le cose che vi sono piaciute ditemi qualcosa a voi rendetemi partecipi dei vostri pensieri come vi ho fatto vi ho reso partecipe per quanto riguarda il mio video ditemi cosa ne pensate io vi aspetto in tantissimi nei commenti e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao